A muso duro, senza tanti fronzoli, senza giri di parole, il messaggio di Francesco Rucco al governo è deciso, diretto, immediato. Nella stagione del coronavirus tutti devono rispettare le regole, tutti, anche sbandati e spacciatori che infestano le città. Sbandati o spacciatori che se ne fregano, tanto per essere chiari, di quello che sono le nostre regole, continuano a svolgere le loro attività illecite piuttosto comodamente. Francesco Rucco, oggi in videoconferenza con gli altri sindaci dei capoluoghi veneti, ha lanciato la sfida alla criminalità, ai gruppi di delinquenti che ignorano qualsiasi disposizione e addirittura reagiscono con arroganza contro le forze dell'ordine che li sanzionano. Una situazione intollerabile e purtroppo molto diffusa, non solo a Vicenza. Abbiamo rilevato con i sindaci una situazione di oggettivo peggioramento del tema della sicurezza nelle città, soprattutto nelle città più grandi. È necessario che il governo e il ministro dell'interno intervengano con misure ad hoc più restrittive, più severe rispetto alle semplici sanzioni pecuniarie che si stanno applicando in questo momento e quindi anche con gli arresti, se necessario. Una situazione intollerabile perché chi resiste a un pubblico ufficiale deve essere arrestato e se le carceri sono piene, il sindaco di Vicenza chiede al governo di prevedere delle strutture dove sia possibile rinchiudere questi balordi. Serve certezza della pena, oggi più che mai, a muso duro.